Elezioni regionali, frattura strezza l'occhio a pietra cupa, si rincorrono voci nei corridoi di Palazzo Moffa, circa un possibile patto elettorale tra il leader della coalizione di centro-sinistra e i centristi vicini al presidente del Consiglio regionale. Carceri, la denuncia del consigliere nazionale SAP Di Giacomo, netta presa di posizione dell'esponente sindacale da giorni sciopero della fame contro le pessime condizioni delle strutture penitenziarie italiane, da oggi è iniziato anche lo sciopero della sete. Molise TV si rinnova il successo di pubblico e di ascolto di iTalent, il fortunato format condotto da Samantha Ciarla e Carina Oregna piace e mette in luce i migliori talenti artistici molisani dagli 11 ai 18 anni. Serie D, Cicchetti tende la mano a Monfreda, l'ex presidente dell'Isernia Volley entra nell'Isernia Football Club, pronti i primi acquisti, Guglielmi, Iaboni e Fazio. Sarebbe pronto a tornare anche l'allenatore Francesco Farina. Coppa Italia regionale, la finalissima tra Turris e Fornelli si giocherà a Trivento. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Molise TV. Apriamo con la politica. Giochi fatti per l'elezione del nuovo governatore del Molise? Nemmeno per sogno, proprio quando l'ufficializzazione della candidatura romana ha di fatto spaccato il centro-sinistra, voci di corridoio vedrebbero Paolo Di Laura Frattura intavolare trattative di corridoio con il presidente del consiglio di Palazzo Moffa, Mario Pietracupa. Obiettivo? Quello di compensare la previsione di emorragia elettorale d'area in direzione dell'avvocato Rottamatore di Boiano. Vediamo. Mai dire mai perché si sa la politica è l'arte del possibile e talvolta anche dell'impossibile. E allora accade che la disputa per la poltrona di governatore del Molise stia accendendo talmente tanti desideri e fantasie che la non esclusione di colpi appare fattore dominante. La conferma della scelta operata da Massimo Romano nel dichiarare in via definitiva la sua volontà di candidarsi per la presidenza della regione ha fatto riflettere il candidato del centrosinistra che sembra volersi affidare a possibilità alternative circa le sue chance di vittoria. Non ci sono conferme nemmeno smentite ma le voci raccolte dai corridoi di Palazzo Moffa raccontano di un accordo nemmeno troppo sotto banco che sarebbe in via di definizione tra il presidente del consiglio regionale Mario Pietracupa e ulteriori figure a lui riconducibili con il candidato del centrosinistra ufficiale. Un'accelerazione sullo scenario politico regionale che potrebbe raccogliere intorno a Frattura quella ulteriore area di consenso a compensazione dei voti in libera uscita in direzione di Massimo Romano e della sua lista. A conti fatti il profilo elettoralistico del governatore uscente non dovrebbe mutare di molto visto che lo strappo con una parte dei suoi sostenitori in un tempo era già stato consumato una decina di giorni fa dopo la diserzione dal tavolo della maggioranza dei segretari di Unione di Centro, Popolare Udeo e Alleanza di Centro che avevano detto con chiarezza di volere un segnale di discontinuità con il passato per andare incontro alle aspettative della popolazione molisana. Sullo stesso fronte in casa dell'Udc in particolare che rischia di frantumarsi malamente non sarebbero da escludere le resistenze dell'assessore regionale Luigi Velardi e di alcuni suoi fidi amici pare lo stesso Velardi sia destinato a un posto nell'istino di Iorio. Stanti queste indiscrezioni il segnale di discontinuità potrebbe o dovrebbe andare in direzione di Frattura con importanti prebende per gli eventuali compartecipi dell'operazione ex destra Centro Venafrano che sta col PDL. Patriciello Pare abbia rinunciato per il momento alla candidatura parlamentare. Del resto l'impazzimento della politica oggi è sotto gli occhi di tutti. Questa mattina il premier dimissionario Mario Monti se la prendeva con il centrodestra e con il centrosinistra in pratica con coloro che lo avevano sostenuto almeno in una trentina di passaggi parlamentari di rilievo. Per converso sia Berlusconi che Bersani stanno criticando a più riprese l'uomo che hanno avallato alla guida del paese per ben 13 mesi. Ogni commento lecito è anche superfluo. Micaela Fanelli è tra i candidati del PD in quota Matteo Renzi per le elezioni politiche e sarà nel collegio della Calabria occupando la quarta posizione per il Senato. Il via libera è arrivato dal comitato elettorale nazionale del partito. Il sindaco di Riccia dunque ottiene la candidatura in una posizione che potrebbe consentirgli l'elezione a Palazzo Madama. La Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per le condizioni di vita nelle carceri definite inumane e degradanti. Una situazione denunciata più volte anche dal consigliere nazionale del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo che abbiamo avvicinato il servizio. Ci troviamo a casa di Aldo Di Giacomo, dirigente nazionale del sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria. Il 31esimo giorno di sciopero della fame e oggi inizia anche lo sciopero della sete. Ben 13 chili persi da Aldo Di Giacomo. Ma ci facciamo spiegare direttamente da lui i motivi di questo sciopero. Io protesto contro un sistema giustizia oggi, un sistema giustizia di terzo mondo. Abbiamo 9 milioni e mezzo di processi pendenti, 180 mila prescrizioni e il mondo carcerale, che è un mondo veramente in cui si vive, c'è malissimo. Abbiamo 64 mila detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 46 mila. Proprio ieri è giunta l'ennesima sentenza alla Corte di Giustizia Europea che condanna l'Italia al pagamento di 100 euro per detenuti perché vivono in una situazione incivile, essenzialmente il contenuto è questo, e invita l'Italia a rimuovere l'ostacolo del sovraffollamento che secondo la comunità europea è di carattere strutturale organico. E' le stesse cose che diciamo noi del SAP da un sacco di tempo. Qual è l'obiettivo della mia protesta? E' quello di sensibilizzare il mondo della politica su questo problema che è ormai uno dei problemi, a mio parere, più gravi d'Italia. Da oggi inizio anche lo sciopero della sete e che porterò avanti fino a quando non avrò la giusta attenzione. Il ministro Severino ha fatto un DDL straordinario da una parte delle depenalizzazioni e dall'altra un maggiore ricorso alle misure alternative ma evidentemente l'ultimo giorno con il mancato supporto della Lega questo non è partito, non è andato in porto. Questo sarebbe stato un primo e significativo una prima e significativa dimostrazione di interesse da parte del mondo della politica verso il sistema carcerario. Soffermiamoci un po' sui numeri. negli ultimi anni tanti troppi suicidi sia da parte di coloro che devono scontare delle misure detentive ma anche e soprattutto da parte dei tuoi colleghi. Sì, il dato è un dato agghiacciante. Siamo nell'ordine delle 110 morti ogni anno di cui una settantina per suicidi. Mentre un altro dato che è straordinariamente significativo 104 poliziotti penitenziari suicidati negli ultimi dieci anni. L'11 un incontro al Senato durante il quale lei esporrà il problema a tutti i leader politici. chiederò a tutti i leader politici presenti se si degneranno di venire di prendersi in carico di questo problema e di cercare di inserirlo nelle loro priorità nel primo anno. Ringraziamo Aldo Di Giacomo per la sua disponibilità e gli facciamo l'imbocca al lupo per la sua lotta. Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Fondovalle Biferno all'altezza del Bivio per Colle d'Anchise coinvolti una macchina e un tir il conducente dell'auto è stato trasportato all'ospedale Cardalelli con lesioni fortunatamente non gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro che da una prima ricostruzione sembrerebbe essere stato causato da una manovra azzardata dell'automobilista. I militari del nucleo operativo e radiomobile di Venafro hanno fermato e denunciato per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti un giovane di 27 anni. Una notizia invece di giudiziari dopo vari rinvii nel giudizio di merito il tribunale di Isernia ha condannato a due anni e quattro mesi di reclusione l'uomo di origini rumene che qualche mese fa aveva rapinato la coniuge di vari monili in oro arrestato dai carabinieri di Isernia. Gli carabinieri precari della provincia di Isernia non hanno alcuna intenzione di interrompere la loro protesta. Tutt'altro nel pomeriggio di ieri hanno organizzato un presidio a Campobasso davanti la sede del Consiglio regionale. Continua dunque la protesta degli infermeri precari di Isernia arrivati a far sentire la loro voce anche davanti al Consiglio regionale a Campobasso. Quello che chiedono è un lavoro stabile nel pieno rispetto dei diritti acquisiti nel tempo in termini di punteggio in graduatoria che a quanto pare non sono presi in considerazione e a tutto svantaggio della sanità del Molise che continua a vivere di precariato non garantendo così un servizio efficiente e costante ai cittadini. Noi chiediamo che dopo tanti anni di servizio nelle strutture sanitarie molisane ci venga riconosciuto un diritto che pensiamo di aver acquisito con enormi sacrifici che è quello di un lavoro stabile. Come ha detto lei la situazione è ormai stagnante da diversi mesi. La nostra protesta è cominciata da oltre tre mesi e ancora non si vede alcunché di risultato. I politici non si fanno né vedere né sentire e siamo arrivati ad una situazione in cui chiediamo veramente delle risposte concrete e che qualcuno decida ad impegnarsi seriamente per la soluzione del nostro problema. 20 giorni fa durante una conferenza stampa i precari avevano dichiarato che se entro breve tempo non otterranno una soluzione concreta restituiranno insieme ai loro familiari le tessere elettorali. L'approssimarsi della scadenza elettorale suggerisce di prendere il comando delle redini di questa protesta che non sembra fermarsi. Tutt'altro. Nello specifico la situazione degli infermieri precari risulta particolarmente delicata e il nodo del problema è infatti questo. Gli infermieri precari del Molise hanno lavorato per 4, 5, 8, 15 anni addirittura nelle strutture molisane con i contratti a tempo determinato. Un bel giorno, circa due mesi fa i vertici dell'ASREM si sono svegliati e hanno deciso che non avevamo più il diritto di continuare a lavorare come avevamo fatto in questi anni e hanno deciso di far ricoprire il nostro posto di lavoro ad infermieri che nella famosa gradatoria dell'avviso pubblico di cui parliamo da diverse settimane hanno dei punteggi notevolmente più bassi rispetto ai nostri. Noi ci siamo rivolti a degli avvocati abbiamo iniziato delle azioni legali che porteremo avanti con coraggio senza paura di nessuno. I precari denunciano con forza la perdita del lavoro nonostante il loro punteggio in graduatoria che li vedeva saldamente avanti a coloro che oggi risultano operativi. E questa mattina dinanzi al Palazzo del Governo a Campobasso i rifugiati politici che vivono in regione hanno manifestato per chiedere di essere aiutati. Siamo disperati, hanno urlato non abbiamo soldi e nemmeno un lavoro. Il 31 dicembre scorso infatti essendo rientrata l'emergenza nazionale la stessa convenzione stipulata tra la protezione civile del Molise e l'associazione dalla parte degli ultimi è scaduta lasciando gli immigrati sempre più preoccupati per il loro futuro. In tarda mattinata il presidente dell'associazione Loredana Costa insieme a una delegazione di rifugiati è stata accolta dal prefetto di Campobasso Francesco Paolo Di Menna per trovare una soluzione per i prossimi mesi. Intanto gli operatori dell'associazione hanno garantito che dal 31 dicembre a oggi tutti i servizi essenziali sono stati garantiti agli extracomunitari. E ci spostiamo a Termoli precisamente alla Fiat dove anche il 2013 si apre all'insegna della Cassa Integrazione 2.500 lavoratori osserveranno una settimana di riposo forzato nel prossimo mese di gennaio dunque ancora segnali negativi per la ripresa del mercato automobilistico il servizio del corrispondente. 2.500 persone a casa per una settimana il 2013 si apre così come si era chiuso il 2012 alla Fiat Power Trend di Termoli l'annuncio della nuova Cassa Integrazione è arrivato nella serata di ieri ed ormai non si può più parlare di fulmini a ciel sereno quel che più preoccupa è che da un certo periodo a questa parte la Fiat è costretta a serrate quasi generali per ammortizzare il periodo di crisi e la mancanza di nuove commesse e così di riflesso anche lo stabilimento adriatico si allinea al momento ed attende quelle prospettive di rilancio che ormai rimangono solamente annunci diramati di volta in volta forse solamente per stemperare gli animi degli operai che non riescono più a spiegarsi quello che sta succedendo il mercato mondiale dell'auto non accenna così a nessuna ripresa concreta nell'immediato per quanto riguarda casa Fiat nei mesi appena trascorsi si erano tracciate anche percentuali assolutamente negative di vendite rispetto agli anni precedenti e così nel prossimo mese di febbraio a rivolta del re si aprirà questo nuovo ciclo di cassa integrazione il continuo ricorso agli ammortizzatori sociali sembra ormai diventato una prerogativa per la casa automobilistica di Torino forse solo così fermando migliaia di persone di volta in volta si riuscirà ad ammortizzare questi periodi di magra produttiva lo stop forzato al lavoro non sarà però per una settimana consecutiva i lavoratori infatti si recheranno al lavoro dal mercoledì al venerdì e aggiungeranno gli altri giorni lavorativi ai riposi del sabato e della domenica sono numerosi gli immobili messi in vendita dal comune di Campobasso attraverso aste pubbliche andate però deserte per tale ragione non sarà particolarmente elevata la somma ricavata da Palazzo San Giorgio un importo che pare sia di poco superiore ai 70.000 euro vediamo il servizio di Fabiana Bazzia dopo che a Palazzo San Giorgio 26 volti noti della maggioranza fremono affinché il sindaco di Campobasso Gino Di Bartolomeo possa spiccare il volo verso il Senato mettendo addirittura nero su bianco in una lettera indirezzata ai vertici nazionali del popolo delle libertà nulla di buono si prospetta per il futuro delle casse comunali del capoluogo infatti se qualcosa sarebbe potuto migliorare con la vendita degli immobili di proprietà di Palazzo San Giorgio che sono stati messi in vendita potrebbe ora non essere più così visto che molte asse pubbliche sono in realtà andate deserte su 10 beni messi in vendita ne sono stati aggiudicati solo 6 e soprattutto solo quelli con il prezzo più basso tra relitti stradali e appezzamenti di terra nelle casse del municipio arriveranno all'incirca solo 70.000 euro un po' pochi rispetto alle aspettative previste dalla maggioranza da vendere rimane ancora dunque l'ex mattatoio di Piazzale Palatucci e l'auditorium di Corso Bucci la medesima struttura donata a tempo fa a Palazzo San Giorgio attraverso l'ormai consolidato metodo di scomputo degli oneri di urbanizzazione struttura quest'ultima dal valore di 910.000 euro e se dunque pochi saranno gli introiti ricavati da tali aste i gruppi di minoranza continuano a non condividere la sindrome di una vendita ritenuta quasi compulsiva e che rischia di privare i cittadini del capoluogo dei servizi essenziali a Palazzo San Giorgio infatti da qualche giorno sono stati messi in vendita anche alcuni alloggi destinati alle fasce più deboli della popolazione in via Sicilia, via Sardegna e via San Giovanni oggetto della contestazione hanno spiegato dall'opposizione non è la vendita degli immobili agli attuali inquilini bensì il fatto che tali strutture dovevano essere utilizzate da chi ne aveva diritto insomma dopo gli alloggi di via Facchinetti di edilizia sociale ancora mai realizzati alle minoranze sembra che tali siano stati fatti sempre a discapito dei servizi essenziali il liceo scientifico Alberto Romita di Campobasso ha festeggiato i 65 anni della Costituzione gli studenti delle classi quarte hanno elaborato 5 domande sulla carta fondamentale dello Stato italiano il liceo scientifico Alberto Romita di Campobasso ha festeggiato i 65 anni della Costituzione italiana gli studenti delle classi quarte hanno elaborato 5 domande sulla carta fondamentale dello Stato italiano e ciascuna classe ha presentato una riflessione su ogni articolo della carta costituzionale a spiegare l'iniziativa alla dirigente scolastica Anna Gloria Carlini è un percorso didattico svolto dalle classi che oggi in occasione appunto di questa celebrazione fa il punto della situazione rispetto ai valori della nostra Costituzione e in un certo senso ci aiuta anche a richiamarla alla memoria cosa vuol dire? Per noi forse è scontato avere una Costituzione ma non è stato così la storia ce lo insegna allora far riflettere i nostri giovani su questo documento sul valore, sui principi su quello che dobbiamo fare affinché possa definirsi concreto tra virgolette per noi rappresenta un momento molto importante le docenti di storia e filosofia delle fraracce Simonetta Tassinari hanno spiegato l'importanza della Costituzione italiana c'è stata anche una domanda di una ragazza che ha voluto sapere se la nostra fosse davvero la più bella rispetto alla Costituzione degli Stati Uniti d'America che sicuramente anche essa è molto interessante ho detto alla ragazza che la nostra senz'altro è la più bella anche perché di fatto è stata una conquista lenta, importante ma alla fine estremamente soddisfacente per noi sicuramente la Costituzione rappresenta in fondo un orizzonte valoriale etico che ci illumina nel cammino i ragazzi hanno in fondo proprio tentato di rendersi consapevoli di ciò del resto la stessa Costituzione americana è un prodotto europeo ergo non ci sono dubbi la nostra è una bellissima Costituzione al di là di Benigni al di là del fatto che anche in Italia, appunto noi che siamo un paese democratico liberale la Costituzione materiale non ha ancora eguagliato quella formale purtroppo noi occidentali rappresentiamo la punta di un iceberg perché in tutto il mondo, o meglio in buona parte del mondo la Costituzione è ancora purtroppo un sogno, addirittura un'utopia ha preso parte all'iniziativa rispondendo alle domande degli studenti anche il Presidente del Consiglio regionale del Molise, Mario Pietracupa è davvero impegnativo confrontarsi con questi ragazzi perché sono ragazzi straordinari hanno affrontato un tema importante come quello della Costituzione in maniera particolarizzata e anche in maniera molto tecnica ma soprattutto con grande passione e questo mi conforta quindi trovarsi qui al cospetto di centinaia di giovani che affrontano un argomento come quello della Costituzione italiana con entusiasmo, io credo che sia un motivo in più per sentirsi proprio impegnati nella vita ecopolitica e istituzionale quotidiana Dopo i due principi di incendio dello scorso mese di dicembre questa mattina è tornato in attività il plesso scolastico di Pantano Basso a Termoli una riapertura contrassegnata da numerose polemiche sollevate dai gruppi consigliari in comune del centro-sinistra l'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Sabella parla però di polemiche inutili all'indirizzo dell'amministrazione comunale Giovanni Cannarsa Riaperto in mattinata tra mille polemiche il plesso scolastico di Pantano Basso a Termoli nello scorso mese di dicembre per ben due volte l'edificio fu evacuato a causa di due principi di incendio un guasto all'impianto elettrico non ha consentito lo svolgimento delle elezioni la prima volta un forte odore di bruciato la seconda una fiamma da uno splitter ha gettato tutti nello sconforto al punto che in concomitanza con le vacanze di Natale il sindaco Antonio Di Brino ha deciso di prolungare l'astensione dalle elezioni fino alla Befana per consentire tutti il lavoro di ripristino e messa a norma dell'impianto ma non è bastato in quanto i lavori si sono prolungati per altri due giorni ed i piccoli alunni sono potuti rientrare in classe solamente questa mattina la vicenda ha prodotto prese di posizione ed anche la minoranza di centro-sinistra al comune di Termoli ha deciso di farsi sentire riferendo come quanto accaduto alla scuola di Riovivo sia l'emblema della superficialità dell'amministrazione comunale adriatica già il 21 dicembre scorso era stata presentata una mozione urgente da discutere in consiglio comunale ma la questione non è stata inserita in agenda nella movimentata sise che si è tenuta al palazzetto dello sport secondo il centro-sinistra è stato infatti inutile cercare di adeguare l'impianto elettrico in quanto visto le tante problematiche riscontrate a scuola era preferibile trovare altri locali più idoni per lo svolgimento delle elezioni di contro però l'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Sabella ha elogiato l'operato del sindaco che ha subito chiuso l'edificio nel momento in cui si è verificato il primo problema l'amministrazione comunale ha poi lavorato fino a ieri per consentire la ripresa delle elezioni per Sabella ancora una volta il centro-sinistra avrebbe perso occasione per tacere in quanto i due giorni supplementari di chiusura sono stati concordati con gli insegnanti per consentire a tutti di tornare a scuola con assoluta tranquillità e dopo la pausa natalizia sono riprese ieri le esibizioni dei concorrenti che partecipano al programma televisivo iTalent giunto alla sua quinta puntata ricordiamo che è possibile sostenere ragazzi con il televoto chiamando il numero 899-030-339 e digitando quando richiesto il codice del concorrente prescelto vediamo il servizio che segue la quinta puntata del talent show di Molise TV ha visto esibirsi i ragazzi e ragazze in tutte le discipline messe a concorso ti ho sbagliato un giorno ora capisco che lo pagate a cara la verità grazie a tutti Tra le esibizioni fuori concorso nel corso della serata una coppia di ballerini giovanissimi, lui 12 anni e lei 10, ha mostrato al pubblico presente in studio e ai telespettatori la rumba e il jive. Ospite della serata Francesco Fasciano, rettore del convitto nazionale Mario Fagano, preside del primo circolo didattico di Campobasso e dell'istituto comprensivo di Palata che si è complimentato con i ragazzi. Io mi debbo complimentare con tutti i candidati perché sono stati bravi, quindi per me il voto non è 5 ma è superiore perché provengono dal mondo scolastico. Debo essere ammaricato perché la scuola molisano non ha tutti gli indirizzi scolastici, al di là del liceo musicale, gli altri indirizzi, teatro o altro, non è una città che offre un piano d'offerta formativo come Milano perché manca di alcuni indirizzi scolastici. Credo che questa trasmissione vada inserita nel contesto dell'azione educativa ma anche nelle attività curriculari nella scuola e noi dirigenti scolastici non dovremmo prendere atto. Ricordiamo che sarà possibile votare i ragazzi per tutta la settimana fino alla prossima puntata di iTalent che tornerà in onda a martedì 15 gennaio alle ore 21 sul canale 611 del Digitale Terrestre e in streaming sul sito www.molisetv.com Maggiore collaborazione per progetti che favoriscano l'informazione sulla celiachia, ovvero l'intolleranza alimentare al glutine contenuto nei cereali. Questo è quanto è stato deciso in un incontro tra l'assessore regionale alla sanità Filoteo Di Sandro, i vertici ASREM e l'associazione Celiachia Molise Onlus. La celiachia infatti non è più classificata come malattia rara ma è stata riconosciuta come malattia sociale che colpisce un numero sempre maggiore di persone. Risulta determinante quindi favorire una giusta e capillare informazione per consentire una diagnosi immediata e l'avvio di percorsi terapeutici e di assistenza mirati. È calato il sipario sulla tredicesima edizione della manifestazione I presepi nel presepe a Pesche. Una giuria di esperti ne ha premiato i più belli e innovativi. Come era prevedibile il primo premio per la categoria I presepi più belli d'Italia è stato assegnato alla regione Campania. Ma vediamo il servizio della corrispondente Arianna Gentile. Con l'arrivo della Befana è calato il sipario sulla tredicesima edizione della manifestazione I presepi nel presepe. Si sono così spente le luci che hanno illuminato a partire dall'8 dicembre i 50 presepi allestiti nel centro storico di Pesche. Un comune che tanto somiglia ad un presepe grazie alle sue bellezze naturali, scorci, vicoli e all'aspetto labirintico di scale e passaggi. Caratteristiche che hanno attirato nel borgo antico del paese durante le festività natalizie centinaia e centinaia di visitatori. E come ogni anno sono stati assegnati anche dei premi per la categoria I presepi tradizionali si è aggiudicato il primo premio Gregorio Prudenzano perché con cartapesta e terracotta è riuscito a dare alle figure solenni matericità. Matteo Di Franco invece ha vinto nella categoria ragazzi con il suo presepe sommerso davvero originale. Un premio l'ha vinto anche Francesco D'Amato per i materiali innovativi utilizzati. Il giovane artista ha convinto tutti perché con dei semplici chiodi è riuscito a rappresentare la sofferenza dell'umanità. Mentre Mario Russo originario della Campania ha realizzato il presepe più bello d'Italia l'artista napoletano infatti è riuscito a dare ampio respiro alla storia sacra esaltandola nell'insieme e nei dettagli. Per il decimo anno consecutivo sono state premiate anche le poesie più belle sui gradini più alti del podio Umberto Vicaretti di Roma per la poesia e al gelo del Natale Era mia madre e l'intera classe quinta della scuola primaria Padre Pio di Pesca e Pettoranello per la categoria ragazzi. Vediamo ora insieme le previsioni del tempo per la giornata di domani. Il meteo è offerto da Scegli Italian Gas e troverai il massimo risparmio Chiama il numero verde 800 76 89 89 e capirai come risparmiare Italian Gas, energia per passione Previsioni del tempo per la giornata di giovedì 10 gennaio 2013 L'Italia continua ad essere esposta ad un flusso di correnti umide occidentali Sul sud-est nuvolosità irregolare in transito più significativa sulla dorsale tra Molise e Basilicata Temperature rialzo, venti deboli moderati, mari da poco mossi a mossi Vediamo nel dettaglio le temperature Campobasso minima 4, massima 7 gradi Isernia minima 3, massima 12 gradi Termoli minima 7, massima 12 gradi Il meteo è stato offerto da Scegli Italian Gas e troverai il massimo risparmio Chiama il numero verde 800 76 89 89 e capirai come risparmiare Italian Gas, energia per passione Per questa edizione è tutto Dopo di noi colleghi dello sport Grazie per averci seguito e buona giornata